Diciamo che il posto del tone è una politica attiva del lavoro che ha permesso di coniugare obiettivi sociali e economici, quindi non solo di reimpiegare nel mercato del lavoro soggetti espulsi dai processi produttivi in dettaglia avanzata, ma anche attraverso la realizzazione di opere di interesse generale e di servizi di pubblica utilità, di generare anche un valore economico e in particolare per ogni euro speso dalla pubblica amministrazione provinciale abbiamo una generazione di 2 euro nel sistema economico provinciale attraverso l'indotto creato. Diciamo che l'importanza dell'attività produttiva del progettone è data anche dai territori interessati da questi interventi, che sono soprattutto territori periferici e quindi più fragili rispetto ai poli, quindi con una mancanza anche di servizi. Quindi il presidio garantito e la malattia del territorio data dal progettone risulta estremamente fondamentale e strategica per l'intero territorio provinciale.